Il Milan vince una partita bella, importante, piena di emozioni, addirittura abbellita da un finale angoscioso, angosciante per i milanisti dopo che per due terzi della partita si era vista invece in campo una squadra che dominava e che quasi in maniera noiosa soverchiava l'avversario. Tutto questo per due terzi della partita e poi improvvisamente è successo qualcosa che ha ribaltato tutto, riempiendo di emozioni il finale di partita, rendendola palpitante, se vogliamo anche divertente per i milanisti che a un certo punto hanno cominciato angosciosamente a guardare l'orologio. L'espulsione di Tomori è stato un evento che certamente ha cambiato completamente il corso della gara. Anche un evento però che a mio avviso non ha rappresentato un momento di giustizia, cerco di spiegare perché. Tomori probabilmente andava espulso, è un piccolo record essere espulsi con tre falli, tre falli due gialli fuori. Ecco, diciamo non va bene. Vero è però che Tomori era troppo nervoso e qui bisogna poi aprire una parentesi sulla gestione di Tomori in campo. E' vero anche che il secondo giallo poteva portare effettivamente l'arbitro a questa decisione perché il fallo era borderline. Quello che però non torna è che Tomori con tre falli sia stato espulso, mentre l'altro duello, perché quello più pericoloso diciamo per il Milan era appunto Belotti-Tomori, quello più pericoloso ovviamente per la Roma era Selic Leao. Ecco, Selic ha ammarcato Leao come un lottatore di lotta grecolomana, non come un difensore. Cosa che può succedere abbastanza normale quando c'è un giocatore tecnicamente e fisicamente preponderante sul difensore. Però sta di fatto che gli arbitri dovrebbero tutelare intanto l'integrità fisica degli calciatori, e poi dovrebbero anche tutelare l'espressione del bel gioco. Consentire a Selic di marcare Leao tirandolo per la maglia, attaccandosi ai pantaloncini ogni volta che partiva senza mai ammonirlo, affossandolo, ecco ha privato la partita di alcuni spunti che sarebbero stati straordinari. Ora Selic faceva tanto bene a ricorrere a questo tipo di marcatura fuori dalle regole e tanto male però ha fatto Rapuano a essere così sussiegoso nei confronti di Selic, di Tomori, buttandolo fuori, e invece così tollerante verso invece l'atteggiamento di Selic. Questo anche perché, una volta per tutte va detto, questi calciatori devono essere tutelati fisicamente. Voi vi ricorderete quando tanti anni fa Totti, che prendeva tanti falli, suvi un fallo che ne pregiudicò quasi la presenza ai mondiali. E ci fu giustamente una levata di scudi in cui si disse che gli arbitri devono tutelare l'integrità fisica dei giocatori. Ora non è normale che Leao tutte le volte che parte abbia, spesso e volentieri, come è successo però per esempio nella partita con la Roma, qualcuno che gli si attacca addosso, che gli entra sulle caviglie, che cerca in qualche modo di intimidirlo, di fargli male. Ecco, questo Rocchi dovrebbe spiegarlo ai suoi arbitri. Rapuano è stato un arbitro come atteggiamento molto casalingo, naturalmente non è andato bene a molti romanisti che sono perennemente in polemica con gli arbitri, però insomma il calcio di rigore sul Milan, in favore del Milan, era evidentissimo. È stato dato non da Rapuano, che non l'ha visto colpevolmente, ma dal VAR. E anche in questo Rapuano ha dimostrato di non essere all'altezza. E poi in campo ha consentito che Leao venisse menato, mentre Tomori in tre falli becca due gialli e lascia la squadra in dieci. Va bene, ma queste sono considerazioni a latere. Vediamo quello che è importante della partita. Allora, un bel gioco del Milan. Un Milan che ha risorse, e questo è molto importante, che si possono alternare, che è tipico di tutte le grandi squadre. Pulisic non era in serata particolarmente ispirata, era molto ispirato Leao. In altre occasioni è successo il contrario. Milan, che, questo va detto, dimostra ancora una volta di avere un punto debole, non me ne vogliano i milanisti, nella situazione del centroavanti. Giroud, che ha fatto quattro gol, di cui tre su calcio di rigore, Giroud non è il punto di forza di quell'attacco. È un giocatore anziano, esperto, capace ogni tanto di essere al momento giusto, nel posto giusto, ma per ambire a grandi traguardi bisognerebbe avere qualcosa in più di Giroud. Bisognerebbe avere, senza esagerare, un grande attaccante e un, chiamiamolo backup, una soluzione di riserva come Giroud. Non Giroud e come soluzione di riserva è arrivato Jovic. Da questo punto di vista, il Milan, probabilmente, anche per una gestione molto attenta dei soldi, dei bilanci, ha perso un'opportunità che potrebbe magari rimpiangere, perché questa squadra, a mio modesto avviso, con un grande centroavanti, sarebbe davvero una squadra da scudetto. Senza un grande centroavanti, con Giroud, e siamo soltanto all'inizio della stagione, che poi inevitabilmente avrà dei problemi di forma, di presenza, di piccoli infortuni, speriamo nulla di grave, insomma, il Milan avrebbe bisogno di una grande alternativa a Giroud. Così come, se vogliamo, due anni fa, Giroud era una grande alternativa, con due anni di meno, a un titolare, Ibrahimovic, che doveva, sulla carta, garantire quei 15-16 gol e Giroud quei 10-12 gol per poter mettere nell'insieme un 25-30 gol per puntare allo scudetto. Che cosa è successo? È successo che, invece, adesso, Giroud, con due anni di più, rigori a parte, e un calciatore da 15 gol, più o meno, manca quello da 10-12. Difficilmente potrà esserlo Iovic. La vicenda dell'attaccante, che non è arrivato, ha deluso legittimamente molti tifosi del Milan, ma bisogna anche capire quali sono le vere ambizioni. Il Milan parte per arrivare tra le prime quattro, non parte per vincere. Quest'anno, oggettivamente, partono per vincere il Napoli, che ha cambiato pochissimo e che ha tenuto i suoi giocatori più importanti, e probabilmente anche l'Inter, che ha fatto una serie di investimenti più costosi del Milan, pur in un bilancio piuttosto disastrato, quale quello nerazzurro. Ma il Milan può contare su giocatori che stanno dando molto rispetto a quello che ci si aspettava. Diciamo la verità, Pulisic, Lofstuscik, probabilmente il migliore in campo, per certi versi Renders, erano considerati giocatori dalle grandi potenzialità inespresse in qualche modo. Basta pensare a Lofstuscik e a Pulisic nel Chelsea. E molti, legittimamente, si chiedevano ma saranno in grado di cambiare il Milan visto che non hanno cambiato il Chelsea? Beh, alla terza di campionato possiamo dire che certamente Lofstuscik e Pulisic sono due giocatori in grado di fare la differenza nel Milan. Renders è un giocatore in grado di fare la differenza nel Milan e un po' in ritardo invece Cucuese che non ha ancora avuto uno spunto degno di quanto ci si aspetta da lui. La nota positiva arriva invece dall'altra parte da Ocafor che è sempre stato ininfluente ma che invece nella partita con la Roma è in un momento molto particolare in cui c'era bisogno di chi teneva palla, di chi riusciva a partire e andare in profondità ha avuto alcuni spunti confortanti. Consentitemi un'ultima battuta invece su Krunic. Io tre anni fa dissi tra le risate di molti che secondo me Krunic era un giocatore eccellente era veramente un ottimo giocatore che scontava il fatto di chiamarsi Krunic e di non avere un nome magari brasileggiante non era Krunau beh pensate che Krunic nella partita con la Roma ha toccato 86 palloni e ne ha persi tre sono numeri da grande giocatore quel grande giocatore che tanti tifosi di Milano non hanno mai voluto riconoscere lui e che invece è diventato un punto di forza di questa squadra. Staremo a vedere cosa succederà nel derby certamente c'è stato un errore di valutazione da parte di Pioni l'abbiamo detto tre falli e due gialli è una media assolutamente anomala altrettanto vero però è che in più occasioni si era visto Tomori nervoso in maniera assolutamente ingiustificata e Pioli è arrivato tardi a una sostituzione che invece potrebbe costargli nella partita contro l'Inter qualcosa di importante perché è evidente che Tomori che non è il miglior Tomori da qualche mese a questa parte però dà delle garanzie che ne Calulu ne Kier sono in grado di dare e da questo punto di vista Pioli avrebbe dovuto intervenire prima capendo che il suo centrale difensivo non era a livello nervoso in grado di mantenere il campo troppo tardi e l'augurio naturalmente per i milanisti è che questo non debba essere pagato poi nella partita contro l'Inter staremo a vedere grazie 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 a tutti